guardate quanto è bello sta pendendo guarda te prendo tutto questo adesso il testo riprende non a 360 gradi video ampio quindi però te c'è stai tutto dentro te c'è scherzi ma te c'è scherzi che pensa se pende veramente solo psicologicamente domani la vendi si prova le valla una curiosità prova le valla gopro arresta video